buongiorno sei pronto ad iniziare una giornata al meglio bene inizia a sentire percepire il tuo corpo inizia a sentire come una fresca ondata di energia che ti risveglia il tuo corpo a poco a poco diventa frizzante e anche la tua energia si risveglia dopo la nottata percepisci ogni singola parte del tuo corpo e gli dai buongiorno dai buongiorno ai tuoi piedi alle tue gambe dai buongiorno ai tuoi organi genitali ai tuoi glutei dai buongiorno alla tua pancia al tuo seno dai buongiorno al tuo cuore e a tutti i tuoi organi interni dai buongiorno alle tue spalle e alle tue braccia dai buongiorno alle tue mani dai buongiorno alla tua gola dai buongiorno alla tua testa dai buongiorno a questo nuovo giorno facendo un gran sorriso sorridi 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 sai che oggi sarà una giornata meravigliosa la giornata perfetta sai che tutto andrà bene non troverai traffico troverai le coincidenze con gli autobus troverai parcheggio la tua giornata sarà stimolante incontrerai persone interessanti sentirai amici che mi senti da tanto insomma tante cose belle stanno per iniziare in questa giornata se c'è un qualcosa di importante che devi fare andrà benissimo e se invece è una giornata come le altre te la vivrai con il sorriso sentirai di avere potere sulla tua giornata sentirai che ogni cosa andrà nel migliore dei modi il buongiorno si vede dal mattino e questa è una giornata bellissima e tu ti stai preparando a viverla al meglio fai un altro bel sorriso inizia a pensare che cose meravigliose ti attendono inizia a dire dopo di me buongiorno mondo buongiorno e di il tuo nome buongiorno vita sono carica o sono carico e pronta ad iniziare questa meravigliosa giornata sono proprio felice ora che le tue energie sono belle pronte ad affrontare la giornata non ti resta che fare una bella stiracchiata ok un gran bel sorriso aprire gli occhi e iniziare al meglio la giornata felice giornata e che sia una giornata meravigliosa a a a a a a a a